Ciao ragazzi, bentornati in un'altra puntata di B-Squared Gaming Siamo qua e c'è Fra che è pronto in prima linea per farsi questo salto Questo clistere Allora, innanzitutto ci diamo energia Abbiamo tutto carico Cava il fucilone, bene Energia infinita Adesso, allora, questo gioco in alcuni punti è Capitano Ovvio, l'applicazione di Capitano Ovvio Sono convinto che dovremmo bruciare qualcosa Eh, ma ancora non abbiamo la benza Ma ancora, keep clear Dobbiamo andare da ciccio benzina Tu hai capito dov'è ciccio benzina? Se salgo di qui? Perché ha smesso? Ma com'è che si corre? Lo tieni premuto Ah, mi l'ho scordato Allora, andiamo prima di qua? Ah, non lo so, fai te Sei proprio boh No, era l'entrata dall'altra parte Adesso però corri E quindi? Quindi? Quindi, 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 quindi Scopo, scopo Ragazzi, l'idea Io vi giuro Se c'era una cosa che mi ha dato Ve lo giuvo Innanzitutto Non abbiamo fatto il pippozza All'ingresso Del tipo, vi ringraziamo Per qualsiasi sostegno Eh, ma perché lo devi rifare, no? Cosa? L'avevi risparmiato Eh, no, non glielo posso risparmiare Allora, vi prometto Beh, sì, prima di fare così Deppredare Mandateci della presaola Abbiamo fame Ragazzi, il punto è che Continuerò a farvi il pippozzo Fino a che non avevamo Almeno 2000 iscritti Siccome siamo a quota Hai così tanti parenti, fra No, li ho già chiamati tutti Fino Devi schiacciare il bottone Per ridettare Dettagli, dettagli Buonissimi Dettagli, dettagli Ah, aspetta, vedi che sta ricaricando Ah, vedi, c'è proprio il simbolo della benza C'è proprio Self-service Esso Pubblicità occulta Oh, merda Mi ha paura Ci stiamo Ce n'è uno dietro, eh Ma cosa sono Questi cosi qua Ti giuro Sono vecchi soldati Ti ho capito Era quelli Non so se ti ricordi Come hai capito che è vecchio Perché magari potrebbe essere giù Comunque se c'è ancora questa musica Potete che c'è ancora quella Prenda Ah, devo staccare Parti Ma non devi schiacciare Eh, ho piggiato Ok, tank 4 Prendi ancora E se ci buttassimo un po' Nel fuoco Ma sai che stavolta Nel fuoco Nel fuoco Nel fuoco Ok, ok Hai capito? No, scusa Dobbiamo scappare No, che delusione Return to the bay Press Forditto Ma sono un po' più sicuro Ma non vogliamo rimanere a vedere Com'è Eh, moriamo Instante Appena finisce devi correre Vai Ma cos'è no? Non ho capito Ci sono Oh, cazzo Oh Va Oh Capito Oh Ma Ah Eh, se vuol andare a caso No, lì c'è cosa per salire C'è cosa per salire alla tua destra Sempre il video per salire Dov'è? Alla tua destra Forse devi passare in mezzo e prendere Ah, eccolo lì Ancestamente non so dove devi andare Cosa fai? Usa la stasi così me la inchiari Ma quella non era la stasi? Sì, sì Ma vaffanculo, non l'avevo visto Passa Io entrarei dentro Questa vuol dire Locked Perché è Locked? Allora devi andare dall'altra parte Da lì scapperei Scappa, scappa, fase in mezzo No, troppo torto Se vuoi te lo faccio fare volentieri a te Guarda Ma sono ancora vinto Dai Fra Dove devi andare da qualche altro Ma ora Se me devi schiacciare quel gruppo Dai Fra, quello dove stai andando? No, quello è quello del cosa Dobbiamo andare da qualche cosa Dobbiamo andare da qualche altro 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 Presto 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 Non lo so, è la prima cosa. Ah, devi fizzare... Che cosa fai adesso? Tu hai capito? Eh, devi... non lo so. Vai. Giù al volante. Che cosa fai? Eh, che fai? Ah, di verità... Ma quello che c'è scritto, clicca per i dettagli, tu come... Fai select. No, no. Eh, scherzi. No, e... vai quelli di fianco. Unlocked because of the... The Shuttle Vagos. Ok. Ehm... Sarà, chi sta esplodendo tutti. Sempre un investimento il robot. ecco, forse è questo vuoi andare giù? e che ne sono? ah, non dobbiamo tirare quei cosi lì no, mi sai che quella è la luce proprio forse si perché no? eh, guarda, si è aperto questo qui prima non potevamo entrare eh porca puttana, la sparisce no no corrivo, cazzo fai così, fai tutto vai lì io odio quei cosi lì perché poi ti seguono e non ti lasciano più, capito? non ti riesci a fermare, è una cosa che ti giuro mi manda in bed quindi non possiamo lanciare no, perché sei nell'ascensore mettiti un'arma oh, in mezzo al... devi togliere quel barattolo di merda sembra che... ordinanza militare io provo a cercare poi avevamo promesso i nostri utenti di... cos'è? un grillo è quello di qui se è acquistato ah, proprio... direi che ha preso funzionare comunque... cos'è? chi mi ha preso funzionari no no, non chi mi ha preso boom eh... i bi cade oppure for! io provo ritorno ritorno i oh god it's begun the final countdown isaac i'm almost there this shit keeps getting caught in the gears dici che stiamo per morire o che stiamo per rullare? stiamo per rullare l'obiettivo sbloccato massacrito come cazzo è che si andava avanti con questi affari qua? ma noi dobbiamo andare lì o dobbiamo rientrare qui? tendenzialmente ci dovrebbe essere una porta scusa hai letto in due secondi? no ho fatto tutto da solo mission e che dobbiamo fare? aspetta dunque questo gioco hanno tolto il sistema di navigazione un nervoso le mine le mine le mine ricordi che c'è la bbb appena senti bbb e adesso avvicina la mina che ti arriva into the earth ecco 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 ec preso muore sfruttati per ogni mosto di puntata vai vai a prendere l'ossigeno c'è l'ossigeno non so che mi sono sbagliato no esce cazzata cazzata vai sotto c'era un po' il cuore se non noi siamo per morire se non noi siamo per morire beh abbiamo ancora due minuti aspetta aspetta pigia? ah una cosa pigia qualche possante si dovrebbe ricreare aspetta eh non va giù ah no eh mo mo le banane provo ad andare lì allora mi sa che devi andare dall'altra parte dove eravamo prima stiamo per morire ah momenti di tensione quando finisce l'ossigeno ah ma questo qui non è lo ciao aspetta un attimo provo ad andare lì provo ad andare lì provo ad andare lì provo ad andare lì secondo me dove vedi il circo forse era questo questo amico diceva che non riusciva a passare minchia fra ti sta venendo un no una sindrome da un lancio da prestazione non ti sa bene quindi siamo per per come si dice vedere come si muore per mancata di ossigeno tutto la sfissia in questo però hai finito ma sei ancora vivo? eh perché per te che c'è scritto qua? follow basta ti fammi leggere il gioco follow emerges in protocollo active cioè sei morto presso le sfide e sei esploso di sé cazzo qui dobbiamo però venirne un attimino a capo scappo da da follow del protocollo segui il protocollo provo ad andare sopra e se perché mi sembra che tu no perché ti sei girato di là venivamo dall'altra parte questo qui non è un coso dell'ossigeno è un po' di ossigeno è una mina di prossimità aspetta fermo ora che abbiamo un po' di ossigeno giriamo ma dov'è l'ossigeno? dove l'abbiamo lasciato? qui non è un coso non ce lo possiamo allora noi siamo venuti da lì quindi cerchiamo di capire dove mina mina ma siamo venuti da lì siccome che ho fatto che si sai che non ci sto con la fu con tutte le volte che ti sei girato lo sai che non ho capito dove cazzo sei ho perso l'orientamento pure io non so andiamo bene girati un po' no quella porta? si non so non so aspetta scusa provare? ho sentito un tic tic no perchè quelli ho schicciato io eravamo di là prima protocoll no aspetta no non devi andare solo devi girarci no ma non da là da dove? dove eravamo andati prima no aspetta no no devi andare solo devi girarci no ma non da là da dove? aspetta leggi lì cos'è personal docking bay questo non è si ci deve essere una porta da tenere perchè apri chi apri chi apri ma forse la prova di scemo dopo un po' non so ah bene capito devi devi dove c'è? ok ragazzi io direi ci vediamo alla prossima al prossimo video qui su beat to square gaming mi raccomando iscrivetevi e dateci dell'ossigeno